Non ho bisogno di ripetere quello che ho detto già molte volte, ma lo ripeto lo stesso. L'Italia non crescerà se non crescendo insieme, nord e sud, se non mettendo a frutto le risorse e le potenzialità della nostra terra e della nostra gente. Ma noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di parlare a questi ragazzi, loro ci danno speranza quando ci mostrano che cosa sono capaci di fare e noi gliela diamo, noi abbiamo il dovere di dargliela. E' un momento in cui si impreca molto contro la politica, ma attenzione la politica siamo tutti noi, è politica anche il costruire qualcosa di fondamentale dal punto di vista sociale come voi fate.